come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e allora partiamo immediatamente spediti con il primo aggiornamento di oggi parliamo subito di assegno unico perché ci sono i primi pagamenti da parte dell'inps nel mese di gennaio quindi vediamo brevemente quando arriva e prendete nota di queste date parentesi io vi dico sempre che quando guardate i miei video prendetevi sotto tenetevi sotto mano un foglietto è una penna una matita quello che le e prendetevi note delle date delle scadenze che vi comunico almeno così quando avete qualche dubbio qualche cosa che non vi quadra andate lì vi guardate il fogliettino e fate prima ma torniamo a noi per quanto riguarda il mese in corso il pagamento è arrivato tra giovedì 18 e venerdì 19 poi la competenza è quella di gennaio e il pagamento riguarda tutti quelli che non hanno subito delle variazioni di importo rispetto ai mesi precedenti tra l'altro qualche giorno fa era uscito un altro video che avevo pubblicato dove avevo detto che c'era stato un anticipo del pagamento la data c'è stato un anticipo che era quella del 16 quindi in pratica in definitiva le date sono 16 17 18 e 19 fatemi comunque sapere qui sotto nei commenti se è andato tutto a posto se non ci sono stati problemi e invece se ci sono stati dei problemi fatemelo comunque sapere così cerchiamo di capire come muoverci e come risolverli cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione oggi parliamo del nuovo importo che sarebbe stato ricaricato sulla carta dedicata a te da parte del governo ma non solo perché sono cambiate anche alcune cose per poter usare e spendere i soldi quindi vediamo un pochino come funziona tutta la questione il 14 di dicembre è stato pubblicato sul sito internet dell'inps faccio di qua perché di solito è di qua che indico l'inps è il messaggio numero 4470 con le istruzioni per la novità della carta dedicata a te se vi ricordate secondo me vi ricordate il 15 di settembre era scaduto il termine per poter attivare la carta facendo almeno un pagamento con io dicevo anche bastava anche solo un euro per poterla attivare poi tra le varie cose tra l'altro c'è stato anche un problema legato a tutte le persone che non non hanno ricevuto la posta a casa quindi non hanno ricevuto la carta perché mi avevano detto per esempio che c'è gente che gli ruba la posta che si sono dimenticati di attivarla che il postino mette la roba lì e poi magicamente la carta la posta sparisce problemi vari che che nascono tra tra vicini di casa quindi allora oggi vediamo di risolvere anche un pochino questo problema intanto iniziate a prendere anche nota insieme a quelle di prima delle alcune scadenze che vi devo dare giusto giusto perché per non perdere di nuovo questi soldi perché noi non vogliamo vero non vogliamo vero che una volta che lo stato dai soldi poi dopo perché uno si è dimenticato perché ha perso la posta perché non lo so io cosa lo stato se le riprende indietro noi non vogliamo questo quindi mi raccomando prendetevi nota di tutto il 15 di dicembre sono stati riaperti i termini per poter attivare la carta e avete tempo fino al 31 di gennaio di quest'anno quindi diciamo ancora un paio di settimane e poi non finisce qui perché hanno detto che la carta sarà anche ricaricata di altri 77 euro più o meno questo è l'importo che è trapelato per ogni famiglia quindi come sempre mi raccomando non buttate via le carte tra l'altro non buttate via neanche la carta rdc mi raccomando io capisco benissimo che a un certo punto saremo pieni e carichi di carte rdc dedicata a carta acquisti carta ad insomma siamo al seno pieni di carte però mi raccomando non buttate le via perché altrimenti succede un paciocco ne che poi magari dovevano arrivare degli arretrati voi non la trovate più è come fate dopo è un problema e quindi non fatelo tornando a noi invece cosa che cosa faranno le poste italiane in questo periodo questo periodo faranno questo sbloccheranno le carte non attivate a tutti quelli che le hanno ritirate ma ma che non le hanno attivate entro il 15 di settembre quindi ci sarà intanto lo sblocco delle carte poi hanno detto che ci sarà la consegna delle carte a tutti quelli che non le hanno ritirate a questo punto per risolvere questo problemino non so io vi do un consiglio poi vedete voi se volete seguirlo non seguirlo se può funzionare se non può funzionare andate in posta all'ufficio postale sotto casa magari con il vostro codice fiscale carta di identità insomma per farvi riconoscere giusto per non andare lì così come dico sempre come dei mamalucchi che poi no non c'è niente per voi ecco quindi carta di identità codice fiscale e chiedete se per caso c'è una carta intestata a voi in carta dedicata a voi che non avete ancora ritirato poi terzo passaggio dicono che ci sarà l'incremento in questo senso quale incremento del contributo di altri 77 euro e 20 centesimi questo importo che pare che siano che sarebbe destinato come sempre ma già eravamo abituati all'acquisto di beni alimentari di prima necessità di carburanti oppure di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico e locale quindi ricapitolando facciamo un piccolo brevissimo riassunto vi dico questo la nuova scadenza per attivare la carta quindi per sbloccarla e quella del 31 di gennaio di quest'anno quindi ancora diciamo un paio di settimane e come sempre vi ho detto come vi ho sempre detto basta spendere anche solo un euro per diciamo sbloccare la carta poi tutti i beneficiari devono utilizzare interamente i soldi che sono stati accreditati entro e non oltre il 15 di marzo quindi due date 31 di gennaio per attivare la carta e 15 di marzo per diciamo utilizzare tutti i soldi poi prima rivediamo un attimino perché hanno detto che con molta probabilità anche quest'anno ci saranno nuove carte in distribuzione di questo ancora non siamo pienamente sicuri e comunque sicuramente funzionerà come prima che non sarà necessario dover presentare domanda per ricevere la carta o per ricevere la ricarica ma basterà dicono senza dubbio comunque vabbè la base è quella presentare un'esee inferiore a una determinata soglia isee così che l'inps sapete vi ricordate che c'era questo controllo fatto tra l'inps e il comune che prendeva tutti i residenti l'inps mandavano elenco di persone poi il comune doveva controllare se quelle persone erano veramente esistenti in vita se avevano determinate problematiche figli in un figlio avantaltro quindi c'era questo doppio controllo e poi dopodiché questo elenco di persone tornava all'inps e poi l'inps mandava un messaggio alle poste dicendo ok allora stampa questo totto questo totto di carte per queste persone poi brevissimamente brevissimamente si può anche se non so neanche se si può dire comunque molto brevemente vediamo le prime disposizioni di pagamento del segno di inclusione questo argomento volevo metterlo qui ma siccome che era troppo lungo a questo punto vi do solo un piccolo riassuntino quindi vediamo un attimino già sappiamo che dal 18 di dicembre era possibile inviare le domande per l'assegno di inclusione e comunque fino qua tutto a posto tutto già lo sapevamo ma in base a quanto ci viene detto da una circolare le domande presentate entro la prima parte del mese di gennaio con il patto di attivazione sottoscritto il pad entro lo stesso mese e con esito positivo dell'istruttoria il pagamento del beneficio potrà essere riconosciuto proprio nel mese di gennaio quindi già tantissime persone mi stanno dicendo ma scusa perché ce l'ho segnato lì ma tantissimi ma come mai la mia domanda risulta ancora acquisita e non si sblocca non diventa accolta come mai allora da metà gennaio quindi se la scadenza era il 7 di gennaio è ovvio che prima del 7 di gennaio non si sblocca niente quindi da diciamo dall'otto inizieranno proprio le verifiche sulle prime domande che sono state presentate per poter predisporre proprio i pagamenti e quindi la prima scadenza è questa qua per le domande presentate entro il 7 di gennaio quindi fino al 7 di gennaio con patto di attivazione digitale sottoscritto e mi raccomando senza quello non si va avanti e entro la medesima quindi è sottoscritto entro entro la stessa data quindi entro il 7 di gennaio e con esito positivo dell'istruttoria quindi lo sapremo dall'otto in avanti i pagamenti verranno disposti dal 26 di gennaio poi ci sono state persone che mi hanno detto ma io come faccio a sapere se la mia domanda è stata accolta o in pagamento e di qua di la ci sono vari sistemi belli belli elenco primo sistema se avete fatto domanda da soli tramite il sito internet dell'inps quindi vi siete iscritti al sis avete fatto il padre quant'altro beh lì è facilissimo rientrate dentro è andata a controllare se è stata acquisita accolta colte pagamento e via discorrendo secondo se avete fatto domanda al caff o al patronato beh anche questo è facilissimo basta che date un colpo di telefono non so gli mandate un whatsapp gli mandate un email non so come siete abituati a lavorare con il vostro patronato il vostro caff e gli chiedete proprio chiaramente ma la mia domanda è stata accolta oppure no e loro saranno ben felici di rispondervi terzo sistema quello di aspettare la risposta è come allora è semplicissimo se entro una certa data prima del 26 di gennaio ricevete un email un sms un messaggio tramite il sisle quant'altro che vi dice di andare a ritirare la carta già carica con i soldi beh allora lì avete il cento per cento di sicurezza che la vostra domanda è stata accolta se non ricevete niente che nessuno si fa vivo e beh allora la questione sono due o non avete letto i messaggi che vi hanno mandato oppure la vostra domanda non è stata accolta quindi vedete il sistema è semplicissimo non è che ci vada una grande diciamo non c'è una grande scienza per sapere se è stata accolta ci sono tre sistemi che alla fine come sempre vi dico che il 3 è il numero perfetto è il numero 3 sul mio canale per molti mesi ve lo sentirete ripetere tantissime volte poi prima di concludere vi ricordo che il giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale di youtube ci sono le nuove dirette live quindi giovedì sera 21 e 30 mio canale di youtube nuove dirette live da adesso fino fino alla prossima estate ci teniamo compagnia una mezz'oretta parliamo del più del meno ci guarda ci vediamo faccia a faccia passiamo una mezz'oretta così è perché l'altro da fare viene lì si guarda la diretta live è la cosa finisce lì poi per tutto il resto potete sempre commentare qui sotto mi raccomando ricordatevi di mettere sempre tanti like che trovate il tasto qui quello fatto così che a voi come vi dico sempre costa veramente pochissimo dovete andare lì col dittino cliccare sul like è però in quel modo voi non vi rendete conto ma aiutate tantissimo a far crescere e a far diventare sempre più conosciuto il mio canale quindi andate lì sotto premette like si chiama così like pollice in su e fate un'opera di bene diciamo diciamola così fate un'opera di bene nei confronti di me che passo il mio tempo a raccontarvi queste questi aggiornamenti sul canale e aiutate il mio canale a crescere bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina e mettere like così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao grazie a tutti